È stato aperto ad Arcidosso, sulla Miata, in provincia di Grosseto, il cantiere per portare internet veloce con la fibra ottica in oltre 3.700 abitazioni e in 124 imprese. L'intervento della regione toscana, finanziato con 1.156.000 euro anche grazie ai fondi europei, è stato illustrato dall'assessore all'innovazione regionale Vittorio Bugli. 39 chilometri di fibra da posare, sfruttando per 27 chilometri cavi dotti che già esistono. Io credo che questa cosa della banda ultralarga sia l'infrastruttura più importante, se vogliamo, che stiamo facendo, perché raggiunge tutta la Toscana. Per una volta si ragiona con la stessa dignità e alla pari fra territori più grandi di città, di pianura e territori invece dove ci sono poche abitazioni, pochi abitanti di montagna, delle aree interne. L'intervento ad Arcidosso durerà un anno e rientra nel piano della regione toscana per portare internet veloce nelle aree bianche, cioè quelle dove i gestori hanno deciso di non investire. Possiamo dire che con questa infrastruttura il nostro territorio sarà sicuramente più competitivo e quindi anche tante aziende che scontano un gap da questo punto di vista, queste aziende che lavorano molto con le tecnologie digitali potranno essere più competitive nel mercato e eventualmente potremo anche attirare altre aziende perché con questa nuova infrastruttura il territorio amiatino avrà le stesse possibilità che ha, per esempio, la grande città. Entro il 2021 gli interventi di posa della fibra ottica saranno completati in tutta la Toscana. Grazie a tutti.